Un'amica molto cara, molto buona, che aveva questo grande desiderio di aiutare i suoi bambini, le sue famiglie, in questo posto così povero, così disperato, così selvaggio come Cimbote. Sono giorni di dolore per i volontari dell'operazione Mato Grosso. L'uccisione della missionaria vicentina ha sconvolto anche la comunità chiavarese e i missionari del Tiguglio impegnati in Perù. La conoscevano Nadia, che ha speso la sua vita per amare gli altri. Guardiamo a lei come ad una martire, ha detto il vescovo ausiliare delle diocesi di Guari, dove si concentra la maggior parte delle missioni del Mato Grosso. A Lima, il tigullino Paolo Viacava si sta occupando delle pratiche per impatriare il corpo di Nadia. Cosa ci rimane a noi che ora siamo qui, un po' persi, smarriti, meditando, accompagnando Nadia, meditando sulla nostra vita, come può finire la nostra vita, come è finita la sua. Essere in missione è anche questo. Quando diciamo a volte questo slogan, siamo qui per regalare la vita, vuol dire anche questo. Una squadra anticrimine della polizia peruana sta seguendo l'omicidio di Nadia. Gli investigatori si dicono fiduciosi. Le prove raccolte potrebbero aiutare a spiegare il fatto. I volontari attendono, mentre nelle parrocchie si susseguono messe e momenti di preghiera. Nadia, la ricordano, si è spesa con entusiasmo, senza calcoli e ne riserve. Di fronte allo smarrimento, dice Paolo Viacava, quella sua passione per i poveri deve rimanere come una luce di speranza. Il cammino di Nadia, la vita di Nadia, la sua morte, deve essere proprio come un'impronta indelebile nella sabbia del deserto di Cimbote e nel nostro cuore. Ecco, quello che vedo, che provo in questi giorni è questa cosa qua.